E' un peccato! Oltra 1, potete trovare controllo. Oltra 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. Oltra 1, minaccia nemica moderata vicino a voi. Oltra 1, minaccia nemici in arrivo. Bottino, qui. Oltra 1, c'è un bersaglio corazzato con una valigetta delle armi in zona. Posizione sulla mappa tattica. Oltra 1, ingaggiate a vostro rischio evitivo. Capo a Oltra 1, il signore della guerra al Narn, ali aspiromani. E' presente in zona. Ha una taglia sulla testa, ma la decisione è vostra. Vado qui. In movimento. In movimento. In movimento. In movimento. In movimento. In movimento. Un'altra stazione di acquisto. Raggiungo questa zona. Ultra-1, minaccia nemica moderata vicino a voi. Affermativo. Vado qui. Un'altra stazione di acquisto. In movimento. Vado qui. Attenzione, Ultra-1, la minaccia nemica è elevata. Preparatevi allo scontro. Ultra-1, minaccia nemica moderata nell'area. Un'altra stazione di acquisto. Ultra-1, elicottero di supporto nemico in volo in quella direzione. Ultra-1, sembra ci siano pochi nemici nella vostra area. Vado qui. Continuo qui. Quello lasciatelo. In movimento. Ultra-1, minaccia nemica moderata vicino a voi. Qui c'è del bottino. Attenzione, Ultra-1, minaccia nemica è elevata nell'area. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.